Sono felice di essere qua di nuovo a Industrie Ploviali, uno spazio che ci è mancato nel territorio come tanti altri in queste dure giornate e lunghe di lockdown. Oggi di tornare qua ha un senso importante perché è uno stimolo alla nostra creatività e soprattutto alla nostra responsabilità nel rimmaginare l'utilizzo di questi spazi, la frequentazione di questi spazi e il rapporto tra il territorio nella sua complessità e luoghi come questo, degli hub di comunità come questo, cosa che è diventata assolutamente urgente. Il lockdown che cosa ha portato nell'ottomunicipio, quello che ha portato nel resto di Roma, qua però abbiamo saputo in qualche modo raccogliere una disponibilità alla costruzione di comunità che non si è spenta durante queste giornate di distanziamento e di isolamento sociale. Sono state veramente tantissime le associazioni che si sono riunite insieme per raccogliere un invito del municipio a costruire un progetto dentro una cornice comune, l'abbiamo voluto chiamare municipio solidale e che cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito fondamentalmente una cosa molto semplice, alcuni strumenti, una piattaforma telematica e altri strumenti di servizio per dare la possibilità al municipio e al terzo settore, alle realtà sociali che già si cominciavano nei primi giorni di marzo a muovere sul territorio per sostenere la comunità, alla cittadinanza, di sposare un progetto insieme e definirlo come un progetto elastico capace di rispondere a bisogni differenti, tante veramente in realtà, dicevo, più di 30 le associazioni e le organizzazioni di volontariato che si sono unite insieme, dai centri sociali ai gruppi scout, alle comunità parrocchiali fino ai piccoli comitati e associazioni che si occupano di territorio, più di 300 i volontari che si sono attivati e poi c'è stato come dire un'attivazione che ha immediatamente coinvolto tutta quanta la dimensione del territorio, quindi esercenti, associazionismo sportivo, un progetto, un vero e proprio progetto di comunità e su questo abbiamo fatto forza per resistere di fronte a un imprevisto straordinario e terribile sicuramente, quale quello che il lockdown, il coronavirus, le misure di distanziamento sociale hanno condizionato. È stato un periodo difficile ma anche entusiasmante per la capacità di leggere in questo territorio una consapevolezza della missione di solidarietà che abbiamo in qualche modo interpretato. È stata sufficiente? No, chiaramente non è sufficiente, accanto alla generosità e alla solidarietà non ci è mai venuto meno e non mi è mai venuto meno la consapevolezza che siano sempre più urgenti delle politiche attive di rilancio della nostra città e dei settori strategici della nostra città, soprattutto dal punto di vista economico e sociale. Però abbiamo saputo dare una risposta, almeno nell'emergenza, a più di 800 famiglie che settimanalmente ricevono aiuti alimentari, a migliaia di persone che si sono rivolte ai nostri servizi d'ascolto psicologico, alle fasce più diverse della nostra popolazione, i commercianti, già lo dicevo, ma anche penso ai bambini e le bambine del territorio che hanno comunque potuto partecipare a una forma differente di relazione attraverso i portali aperti dal municipio, attraverso il Consiglio delle Bambine e dei Bambini o chiedere conto di loro esigenze specifiche, penso agli strumenti telematici, informatici che sono diventati oggetto di una campagna specifica di solidarietà e di raccolta. Oggi cosa ci lasciano questi tre mesi di lockdown? Ci lasciano la consapevolezza che la sfida non è finita, che oggi dobbiamo trasformare questo grande progetto che abbiamo costruito in urgenza, quello di Municipio Solidale, in uno strumento che guardi purtroppo agli esiti, all'eredità della crisi economica che sta colpendo il nostro paese come il mondo intero e che quindi la necessità di uno strumento di nuova costruzione di nesti comunitari sia assolutamente ancora importante per rispondere a dei bisogni specifici e per reimmaginare come sarà la vita sociale dentro la nostra città nel corso delle prossime settimane. Un grande punto interrogativo, ma sono convinto che questo territorio non ha solamente in sé le risorse dal punto di vista della solidarietà che ha dimostrato, ma anche quella della creatività, dell'innovazione sociale, come Industria ha saputo ben raccontare prima di questa esperienza e quindi farò affidamento a Industria e a tante altre realtà di innovazione e di creatività che sono presenti su questo territorio, che ne concentra veramente tante ed è un bellissimo terreno di sperimentazione per reimmaginare con loro come trasformare la nostra quotidianità ante Covid-19 in una nuova immagine, in un nuovo disegno della nostra città.